Sicurezza, parola d'ordine, come ovvio per il giorno in cui Salerno festeggerà il suo santo patrono, ieri in prefettura, la riunione per definire tutti gli aspetti legati alla processione di San Matteo, che come di consueto interesserà alcune strade del centro cittadino e permettere a punto tutti quelli legati anche alla gestione del gran numero di persone che parteciperà al sentito momento tra fede e tradizione. Il comune di Salerno ha quindi adottato il dispositivo traffico per la giornata del 21 settembre, in particolare sin dalla mattina è stabilito il divieto di sosta e fermata dalle ore 11 in corso Garibaldi nel tratto tra via De Felice e via Roma, ancora su via Roma, piazza Mendola, Largo Lagno, piazza Matteo Luciani, piazza Umberto I, via Portacatena, via Giovanni da Procida, via Duomo e via Nizza nel tratto dal trincerone ferroviario a piazza Casalbore. Divieto di sosta e fermata anche il lungomare Trieste tra piazza Umberto I e traversa Odierno e poi ancora in via Lista su queste due strade, poi a partire dal pomeriggio e quindi dalle ore 16 verrà invertito il senso di marcia con i veicoli che giunti all'intersezione dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra. Per i veicoli che sempre dalle 16 arriveranno dalla zona orientale invece all'intersezione tra Corso Garibaldi e via De Felice sarà fatto di vieto di proseguire diritto mentre dovranno svoltare a destra. Anche quelli che giungeranno in piazza Malta dovranno poi proseguire su via Volpi o via Cassese. Infine durante il passaggio dei simulacri su via Cilento in direzione piazza Dante sarà momentaneamente interdetto il transito veicolare sul lungomare Trieste per consentire appunto il passaggio ed il tradizionale saluto al mare. Grazie a tutti.